Finalmente qualcosa si muove nel mondo LEGO e dei nuovi titoli potrebbero arrivare sul mercato? Scopriamolo insieme! Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi vi do il benvenuto in un nuovissimo video dedicato ai videogiochi LEGO. Come molti di voi sanno ne ho portati tantissimi sul mio canale YouTube, trovate tutti i video nella sezione playlist del canale ed è notizia di poche ore fa che la compagnia danese avrebbe stretto un accordo con 2K Games per la produzione di una serie di giochi sportivi basati sulla licenza dei celebri mattoncini. L'obiettivo dell'azienda infatti sarebbe quello di espandere la propria presenza all'interno del mondo dei videogiochi stringendo nuove alleanze. Dopo la fine della partnership esclusiva con Warner Bros. che tra poco più di un mese pubblicherà sul mercato LEGO Star Wars la saga degli Skatewalkers sviluppato da TT Games e che tutti noi non vediamo l'ora di provare. Il primo titolo che inaugurerebbe questo nuovo accordo dovrebbe essere un titolo di calcio in salsa LEGO sviluppato da Sumo Digital autore anche di Suckboy Una Grande Avventura. Il suo debutto sul mercato sarebbe fissato per la fine dell'anno e quindi in concomitanza con i campionati del mondo di calcio 2022 in Qatar. A seguire nel 2023 dovrebbe arrivare sul mercato un gioco di corse open world a tema LEGO sviluppato da Visual Concepts responsabile di NBA 2K e ora al lavoro su WWE 2K22. Per darvi un'idea probabilmente sarà molto simile al DLC Speed Champions già pubblicato per Forza Horizon 4. In ognuno di questi titoli che vi ho citato sarebbero previsti dei cameo di famosi personaggi LEGO appartenenti ai franchise DC, Harry Potter e Marvel. Già vedo la possibilità di utilizzare nel titolo di corse la Batmobile di Batman. Voi ragazzi cosa ne pensate di questa notizia? Io sinceramente sono molto contento perché così oltre a giocare a LEGO Star Wars la saga degli Skywalker avrò la possibilità di portarvi anche dei nuovi titoli LEGO visto che ultimamente mi ero dedicato a titoli molto vecchi come LEGO Star Wars 3 The Clone Wars uscito nel 2011. Fatemi sapere la vostra lasciando un messaggio nella sezione commenti qui sotto al video. Come sempre spero che questo contenuto vi sia piaciuto, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividetelo, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo in un prossimo video sempre qui sul mio canale YouTube. Alla prossima ragazzi! Ciao!